Noi siamo tutti lieti e felici di sentire che finalmente le idee che abbiamo portato avanti per anni possano aver avuto o aver fatto breccia nei cuori anche degli oppositori più duri. Quindi da questo punto di vista sapere che il reddito di cittadinanza è una di quelle proposte che oggi viene messa a modello anche a livello europeo come un possibile sostegno da estendere a tutta Europa così come il super bonus per avere una transizione energetica anche nell'edilizia sapere che queste cose piacciono è una gioia. Quindi contenti che Berlusconi vi faccia complimenti dopo di che lo votate al Quirinale, no? Ovvio. Un sillogismo che non sta in piedi però quello che voglio dire è che spero che questo stesso entusiasmo ci sia anche su altre proposte per esempio su quella del salario minimo che sarebbe bello poter portare a casa. Sulla partita del Quirinale, giochiamo altrove. Il Berlusconi voi non lo guardate come ipotesi Quirinalizia, no? Zero? Guardi, io ho fatto una dichiarazione... Per quanti complimenti vi possa fare? No, no, io non... Guardi, la dichiarazione del Presidente Conte sono chiarissime. Io credo che noi dobbiamo lavorare con serietà questa partita e soprattutto pensare a profili di alta moralità e soprattutto pensare al Paese. Questa è la cosa più importante. Poi la persona deve mettersi da parte. In questo momento noi dobbiamo fare il meglio possibile perché abbiamo ancora una pandemia da gestire. Il passaggio sull'alta moralità era riferito a Berlusconi, così lo diciamo all'onorevole Sist e interrompiamo gli amorosi sensi. I passaggi sulla moralità sono riferiti, secondo me, alla qualità dei candidati che dobbiamo esprimere per la Presidenza della Repubblica, che ricordiamolo a tutti... Qualità che Berlusconi non avrebbe, me la dica dritta però, onorevole Sibilia. Guardi, io sono in linea assoluta con quelle che sono le dichiarazioni del Presidente Conte. Ritengo che sia, secondo me, da scartare, sicuramente non è una nostra candidatura. Ecco, questa è la cosa che ha detto il Presidente Conte e io la condivido al 100%.